Intanto voglio vedere anche un Riccardo Vente che cazzo dice Voglio guardare questo qua Voglio far vedere lui che si fa a mangiare le mani da Sun by a Manowar jellyfish Non lo so Allora questo regà, prima ve l'ho detto Questo si fa a pungere e prova i dolori nella vita Prova i dolori Cioè lui ha trovato questa roba Ovvero non è lui Non è lui Sono più tipi Sono più tipi Ce n'era un altro in quello che ho visto io Guarda che se va a pecorvento Ma fate pare che sta roba sta sulla spiaggia Ogni tanto stirano È morto quello di prima, veramente È morto veramente Sarà in Australia Ma chi te se in c***a sinceramente Bell'edit Il portugese Manowar Algo che si sembra come uno Il portugese Manowar Non è in realtà un jellyfish È un siphonopore Non come un jellyfish Che può survivre a loro Siphonopore È un gruppo di organismo colonizzati Che c***o Non è autoresionismo Questo qua lo fa È uno santa Lo fa per lavoro È uno scienziato È un professionista Non lo stiamo facendo noi Lui lo sta facendo Ma c'è una keep Un'equip dietro Che lo cura Se dovesse sentirsi male Keep for the action Ha detto broccoli Ma come si muove la merda In order to compare the effectiveness Of the most famous remedies For being stung by a manowar Today I'll be taking two stings Side by side On the same arm One of them to be treated with urine The controversial Yet universally accepted cure To all marine creature stings È una bulla And on the other I will spray white vinegar The suggested first Mia Vin Ok, I sense A from a University of Hawaii Research article Then A PP No No From both stings I will attempt to describe Which of these two remedies Relate Here to Ready Please Do not attempt to recreate What you see in this video This experiment is being conducted In a controlled environment By professionals Professionisti Um Oh gosh È piccolo davvero So nervous I can't even get a hold of it Ok guys I think I got it You ready? Ready Ok Here we go About to take Oh god That looks horrible Oh man I'm getting nervous Here we go About to take Two stings From the Portuguese man of war You guys Get your shots ready Because this is only going to happen one time Tear the Manca W One Two Three Ah Yep It's getting me Gallo Grazie a tutti I can feel Ah That's like electric Yeah That's one Grazie Wow Burns right away Ok Second stings I gotta do this fast Ready guys ready Alright One Two Second stings Three Ah Yep Oh Man that one nailed Oh Hmm Ok Yeah Dimmi Instant Almost tingly Electrical feeling Electrico A lot different than a bee sting or a wasp Oh man Una vespa Getting in there I can feel it now Now likely there are still hundreds of nematic Che cazzo ne so che male fa una vespa sincero Oh yeah Che paragone vai fare As I'm talking to you right now I can feel them individually firing Like pow 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 Like a series of bullets going into my skin Woo Yeah Oh questo è eccitato Hmm C'è roba con sta roba You can see getting red On both sides now Stingsite 1 Se fa le seghe Fa male Peccio Ma non dite fake Vabbè mostri spruzzare il piscio E' tutto a posto Non dite fake Perché mo vi faccio vedere la roba Che poi se mi dite fake Mi uncazzo eh Cioè Se io faccio Ordine per i più popolari Regà Questo si fa mordere i coccodrilli E' vero Si fa mordere dei coccodrilli Cioè tipo Questa cosa Cos'è Questo mette le mani Nelle formiche Ma che cazzo è Che cazzo è Dove cazzo li trovi Non è possibile Cos'è sta cosa C'ha una spada nel culo Quell'animale Regà Che cazzo è Cabuto Ma non esistono Ma crab il cazzo Se magna Piccola bocca Dov'è la piccola bocca? Quella al centro? Se lo magnano da qualche parte Sicuro La piccola bocca No Ma questo lo maneggia Questo lo maneggia Non gliene fega un cazzo Ma che sei stupido Oh Oh That feels really really creepy Now it's called A horseshoe Bro Bro No Stop Cambia lavoro Ma che cazzo te ridi Cazzo te ridi Cazzo te ridi Cazzo te ridi Ma che cazzo te ridi Where it gets the name horseshoe crab Mettitelo in testa Mettitelo in testa Scureggia Scureggia Left over from when they were in a larva stage Barda Look at that Wait, those are eyes on top of that? Yes And it actually looks like a face, doesn't it? You see that? I always thought that that was just like a helmet Like a shell protection Well, the top of this animal is called the carapace Just like a lot of other arthropod species This is a very dense, very hard exoskeleton Exoskeleton They don't actually have an endoskeleton You know, bones and cartilage like a human But on the underside, look at that Looks just like a scorpion or a spider Whoa Can I touch the top of it? Yeah, yeah, yeah Totally safe Yep Oh, wow Yeah, exoskeleton Oh, dear, cane This is schifo Oh, guys, it's two months I mean, it's like a turtle shell, actually Yeah, well, I thought it was a turtle When we first walked up And look, you've got some sort of a barnacle growing up on top of it It's covered in a little bit of algae and seaweed Now, here's something that you may not know And something very cool Let me turn it like this And just hold it in the palm of my hand That is me holding a living fossil The ancestors of the horseshoe crab Have been on the planet for over 450 million years Ma te morde o no? And this species right here is the Atlantic Non si fa mordere In June and August, they come very Vabbè, pass Pac-Man Pac-Man of Pac-Man del Che cazzo metti le mani nel buco? Questo non gliene frega un cazzo Queste mani le mette dappertutto Che cazzo? Guys Mettilo in bocca Mettilo in bocca LOL Mettilo in l'acqua All right, I'm... This is... In my opinion And perhaps that's what keeps camouflage Kelp is kind of this reddish orange coloration Ready? Here we go Ready? One, two, three GAH! GAH! Geez, calm down With a 50 pound alligator snapping turtle A couple months back I posted a photo on Instagram and Facebook And asked the question Should I be bitten by an alligator snapping turtle? Ma non ha la bocca Non ha la lingua Che cazzo è? I was expecting you guys to say No way coyote Don't do it Guarda che sta tutta Non è... Non è pe niente rilassato Ta... Surprisingly More than 95% of you said Yes We want to see what it looks like If an alligator snapping turtle bites you Now I've been stung by a scorpion I've been quilled by a porcupine I've been bad at rum Dio guys Si sta fat attaccando a un orso Un orco di... Ma che cazzo di vita fa? Ma perchè devi fat attaccando a un orso? I'm by a grizzly bear But nothing... I don't think makes me more nervous Than to get my arm into the jaws of this turtle Now let's take a look at his actual bite force here Like... Look at that That bite could easily lop off my fingers So you're not gonna see me doing this But what I'm gonna do is actually put my arm into the turtle's jaws And we're gonna test this out first With a turkey leg Which is about as big a round as my forearm Alright here we go guys This is an alligator snapping turtle biting down On a turkey leg, ready? Oh my gosh Oh my god Oh my gosh Oh my god Oh my god Oh my god Oh my gosh Oh my god Holy cow Did you see how deep his feet just went into that- Margey, grazie 5 months, ciao Oh my god Hold it there e un po' di rap sport spero che questa combinazione mi darà una protezione contro non morde l'acqua piccola eh smettire di toccarla e lascia gopro ready here we go ready? 1, 2, 3 ooh I can hear crack in the bamboo he's through, he's through into my arm I feel it ha bugato, fa vedere? arco dio eh fa male se ti entra il becco ti fa malissimo cazzo vabbè lol ok d'accordo va bene